7.56 precise, buongiorno, benvenuti al dibattito di Omnibus di questo venerdì, un venerdì che segnerà il secondo giorno del vertice europeo di Bruxelles, un vertice che ha chiuso una nottata intensissima di lavori. Vi leggo qualche riga della sintesi della notte. Il Consiglio europeo ha chiuso la maratona notturna per salvare l'euro con un accordo a due velocità. I leader dell'Unione hanno concordato più severe regole di bilancio per la zona euro, ma non sono riusciti a garantire un accordo per riformare i trattati dell'Unione, il che vuol dire che la novità coinvolgerà solo gli stati dell'eurozona e quelli che vorranno aderire su base volontaria. Insomma l'accordo è un accordo a 17 più 6 paesi. Sarebbe stata la Gran Bretagna la capofila dei contrari per quest'accordo. Adesso vedremo, c'è un'altra giornata di lavori e alle 9 aprono i mercati. Primo banco di prova fondamentale per vedere come viene accolto quello che sta uscendo da Bruxelles. Allora noi naturalmente parliamo di questo e parliamo anche di quello che sta accadendo in Italia. Oggi alle 11 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto, naturalmente non quelli dei relatori o quelli del governo, ma quelli presentati in Parlamento dalle forze politiche e quindi oggi sapremo che cosa ci sarà di potenziali modifiche delle molte di cui si è parlato, ma che si concentrano soprattutto su due temi. Numero uno, l'attenuazione dell'ICI per la prima casa, anzi dell'IMU oramai per la prima casa. Numero due, la previdenza, come garantire anche a pensionati a redditi superiori ai 1.000 euro, si parla di 1.400 euro, la piena copertura dell'inflazione. Vi presento i nostri ospiti. Buongiorno e benvenuto a Fabrizio Forche, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno e bentornato a Luigi Angeletti, segretario generale della UIL. Buongiorno a Francesco Boccia, parlamentare del Partito Democratico e buongiorno a Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. E poi due ospiti a Milano. Buongiorno a Massimo Garavaglia, senatore, non sbagliamo, della Lega Nord. Buongiorno Garavaglia, parlamentare insomma. E buongiorno a Alessandro De Nicola, presidente della Adam Smith Society. Buongiorno anche a lei De Nicola. Buongiorno. Allora, partiamo dall'Italia, Angeletti. E mettiamo subito i piedi nel piatto del governo e di quello che sta facendo. Allora, voi CGL Cisle Will dopo sei anni lunedì scioperate. Scioperate contro la manovra del governo, soprattutto per il fatto che va a toccare, manca di equità, questa è la sostanza, e va a toccare anche i lavoratori, anche chi ha già pagato molte volte. Questa è la tesi dei sindacati. Monti è peggiore di Berlusconi, tanto che scioperate tutti insieme. la seconda domanda. Noi facciamo un grande sforzo a giudicare i governi per quello che fanno, malgrado che tutti quelli che ci guardano pensano l'esatto contrario. Perché? Perché dice questo? No, perché ovviamente io sono oggetto di critiche legittime, le critiche sono sempre legittime, però una quantità di critiche le ricevo sempre in chiave politica, cioè o se sono troppo amico del governo, se sono troppo contrario al governo. E ora la critica non può essere troppo nemico, va bene. Per fortuna, fortunatamente questa volta, la concentrazione delle critiche si rivolge sul merito, cioè che cosa ha fatto il governo, e non tanto se è meglio o peggio di quello che ci ha preceduto. Questo governo ha fatto delle cose, secondo noi, sbagliate. la prima, l'ha detta lei, ha fatto una manovra abbastanza ingiusta, nel senso che ha prelevato troppi soldi, ha chiesto troppi sacrifici, soprattutto ad una parte della popolazione. Ma la critica che invece io voglio ribadire, perché la considero nel lungo periodo la più importante, è quella che in un paese che sta forse in recessione o rischia di andarci nelle prossime settimane, aumentare le tasse non farà altro che aumentare le probabilità della recessione, lo suo spessore e quindi l'aumento della disoccupazione. Gli obiettivi della politica economica possono essere diversi, ma per noi gli obiettivi della politica economica debbono essere soprattutto quelli di garantire la creazione di posti di lavoro. Queste sono le ragioni della nostra critica e noi non pensiamo che non ci debba essere rigore, pensiamo che il nostro paese sia un paese che ha dei vizi antichi e profondi, ma questi vizi antichi e profondi sono quello che le rende diversi dal resto d'Europa. Cosa ci fa a noi diversi sul serio fuori d'Europa? L'alto tasso di evasione fiscale e i costi del sistema politico. Noi vogliamo avere le stesse pensioni che hanno gli altri, gli stessi sistemi di protezione che hanno gli altri, possibilmente lo stesso livello di retribuzione che hanno gli altri. Se uno fa la fotografia dell'Italia e la sovrappone a quella di Francia, Spagna, Germania, si accorge che è il tasso di evasione fiscale e i costi di politica che ci fanno i versi. È un giudizio di attesa quindi questo, voi dite, allora per il momento non ci piacciono le prime cose fatte, però se il governo dovesse intervenire presto e bene su due punti. Rilancio dell'economia, costi della politica, non è detto che non possa essere... Certamente, avremo lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto anche con il governo precedente ogni volta che ha spiegato, ha approvato o ha detto che l'obiettivo era quello di far crescere l'economia e di ridurre le tasse e di ridurre l'evasione fiscale. Garavaglia, invece il vostro giudizio è molto più critico? Beh, è ovviamente critico perché si tratta purtroppo di una manovra banale, banale nel senso toccare la casa, aumentare la benzina, cose abbastanza scontate e purtroppo molto recessiva. Partiamo proprio da un dato di fatto dei numeri. L'anno 21 era prevista una crescita di più 0,6 prima di questa ulteriore crisi accentuata. Siamo già a meno 0,5. le previsioni cliniche... Ma non è colpa di Monti, eh? Cosa c'entra? No, no, lo dico perché sembra quasi che sia colpa... La colpa di Monti viene dopo. Siamo a meno 0,5 prima della manovra. Con una manovra che è ovviamente recessiva e tutta di tasse purtroppo perché gli unici tagli di spesa che ci sono qua dentro sono i tagli alle pensioni. Quindi non è un taglio di spesa improduttiva, è un taglio di spesa che non andrà in nuovi consumi. Quindi il risultato purtroppo di questa manovra sarà un altro mezzo punto in meno di crescita. Ora, siccome ogni punto di crescita in meno fa meno 15 miliardi di entrate, il risultato sarà un avvitarsi della crisi e quindi allontanare ancora il pareggio di bilancio. Ammesso che abbia un senso, visto quello che è successo in Europa con questo vertice, ancora tenere questo idolo del pareggio di bilancio. Quindi purtroppo una manovra recessiva che colpirà i consumi. Io propongo un test molto semplice a chi c'è in studio, a chi c'è a casa. Pensate se quest'anno per i regali di Natale spenderete di più o di meno. Purtroppo temo che tutti diranno che spenderanno meno. Boccia sorrideva mentre Garavaglia esponeva le sue critiche al governo. Perché? Per le previsioni, Garavaglia. Perché stavo pensando, siccome nei dieci anni che abbiamo le spalle non ne hanno mai azzeccata una, le previsioni, spero che il mio amico Caravaglia è una situazione seria. Facciamo le persone serie se nei dibattiti e davanti alle telecamere diciamo anche le cose che diciamo nelle commissioni in aula, diciamo nelle ore successive ai dibattiti televisivi. Perché non è ammissibile che 18-19 giorni dopo la nascita del nuovo governo e quindi dopo dieci anni che tu e il tuo partito avete avuto la responsabilità di guidare i processi economici di questo Paese, non è ammissibile che davanti alle telecamere si dica che questa manovra A peggiora la condizione del Paese, B ci si lanci in previsioni che onestamente trovo fuori luogo. È una manovra banale? Fammi capire quali sono le manovre fantasiose e innovative fatte nei dieci anni che abbiamo alle spalle. È una manovra che prevede meccanismi redistributivi? Mi si dirà che non sono ancora sufficienti, ci stiamo lavorando in queste ore in commissione bilancio per crearli. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che i meccanismi sull'IRAP se fossero stati attuati e lo dico anche da Angeletti, dai governi precedenti forse avremmo ottenuto altri risultati negli anni che abbiamo alle spalle ed è un impulso importante per le imprese e penso sia un impulso importante soprattutto per la nuova occupazione. La detassazione per i giovani e per le donne è senza precedenti, poi ci sono dei problemi sui quali stiamo mettendo le mani. Le questioni relative alle pensioni, soprattutto a quelle più basse, sono problemi aperti sui quali ci stiamo lavorando, come sono problemi aperti quelli legati a l'ICI. Sul l'ICI vorrei ricordare a Garavaglia che se ci aiutasse a fare la battaglia in Parlamento, la Lega, non lui, al Senato la farà penso la settimana prossima. Probabilmente evitiamo che le sensioni ICI riguardi me, lui o Angeletti che probabilmente non ne abbiamo bisogno, ma riguardi una fascia che non può avere solo 200 euro di esenzione, perché il meccanismo che non funziona ora è che l'esenzione ICI prevista è di 200 euro per tutti e invece dobbiamo costruire un meccanismo che consenta un'esenzione per chi davvero ha bisogno in maniera totale o quasi totale. Vedremo come si può costruire in questi giorni con quei saldi di bilancio ed evitiamo che quelle esenzioni ICI riguardi chiunque, anche chi vive in via Condotti senza denigrare nessuno. Lì le categorie abitative sono diverse, magari quella risulta casa rurale in via Condotti. No, no, perché se è prima casa, così per come è costruita vale per tutti, allora bisogna aggiustarla e ci stiamo lavorando, ci sta lavorando la Commissione Bilancio. Io mi aspetterei da tutte le forze politiche, Lega compresa che ha deciso di essere all'opposizione, sulle macerie, e chiudo davvero, che oggi il sole sintetizza bene. Cioè ci sono nel 2012, eravamo una valutazione che stavano facendo ieri, secondo noi sono 15 e mezzo, 16, il sole dice 17, vediamo in questi giorni con il governo, ci sono 17 miliardi in più di interessi sul 2012. Questa è l'eredità, Caravaglia, e questa è l'eredità però, questa è l'eredità di politiche economiche che ci hanno portato qui, perché altrimenti raccontiamo un'altra storia. Completo il giro, completo il giro, Caravaglia, poi tu. Dica al volo allora, un sms? Le mando anche un sms, ma lo faccio anche corto, però io siccome non voglio fare polemica personale, poi Boccia mi sta anche simpatico e non la voglio fare, però non raccontiamoci delle frottole. Noi abbiamo vissuto con la frottola dello spread fino all'altro giorno. Non è una frottola. Ora, se non si prende atto che ieri lo spread è andato su di quasi 100 punti e che Monti non c'entra niente, non c'entra niente la manovra, quindi che i problemi di questo maledetto spread derivano da che cosa si vuole fare dell'Euro e dell'Europa e quindi le soluzioni che noi possiamo proporre possono almeno facilitare il percorso, ma non di più, se non prendiamo atto di questo non c'è onestà intellettuale, perché ieri lo spread è andato su di 80 punti circa, prima ancora delle pessime notizie dell'EBA e quindi della situazione sulle banche, eccetera. Quindi questo è scontato. I mercati hanno previsto che purtroppo il vertice partoriva un nulla di fatto come purtroppo è quello che stiamo per vedere. Quindi questo è il quadro. In quest'ottica noi diciamo attenzione a spremere troppo il limone perché probabilmente abbiamo bisogno un po' di succo dopo, visto come stanno andando le cose. Detto questo, posso anche dare una nota di ottimismo. Notiamo che in una manovra sostanzialmente di tutte tasse manca la parte sul patrimonio, quindi manca una forte componente di dismissione patrimoniale. Guardiamo questa cosa con ottimismo, probabilmente Monti tiene fieno in cascina se le cose dovessero andare male in Europa. Ecco, questo è l'unico lato positivo che vediamo in questa manovra. Sorgi, allora per tornare ad Angeletti e alle critiche che arrivavano dal sindacato, poca equità? Mancano le misure che ci si attendevano forti per la crescita e quindi per tamponare una situazione di recessione, per evitare che si perdano posti di lavoro? Mancano i tagli alla politica. Sono critiche ingiuste? No, sono critiche fondate ma secondo me dobbiamo ripartire dal nostro punto di inizio. Cioè è evidente che il governo si è trovato nei suoi primi giorni di vita, trascorsi per la verità più a Bruxelles e a Strasburgo che non a Roma, di fronte a una situazione che era anche peggiore di quella che poteva immaginare. E la manovra, questa prima manovra è, io penso che sia la prima di una serie. La dice prima infatti ecco. Io dico, secondo me è la prima di una serie, lo è perché nella conferenza stampa sia Monti sia la ministra Fornero hanno annunciato provvedimenti sul lavoro che saranno oggetto di ulteriori divisioni e contestazioni, che sappiamo cosa ci chiede l'Europa, ci chiede di snellire le norme sugli licenziamenti, di movimentare il mercato del lavoro con delle tecniche che i sindacati italiani non condividono, insomma, e che hanno delle conseguenze sociali importanti, perché non è che non le condividono così perché è un capriccio, ma perché hanno delle conseguenze sociali importanti. Cioè se oggi stiamo facendo i conti con il rinvio della vecchiaia e con l'allungamento della vita lavorativa che per alcune categorie, penso i nati nel 52, nel 53, nel 54, insomma in quegli anni lì, introduce un imprevisto cambio di prospettiva, con le norme sul lavoro avremo dei problemi simili se saranno quelle annunciate. Quindi secondo me la manovra va valutata nel contesto di una situazione che era peggio di quello che si sapeva, tanto per fare un riferimento. Abbiamo discusso per tutta la fine dell'estate e per l'inizio dell'autunno della famosa lettera della BCE. Come no? La lettera della BCE che ci indicava le cose da fare con urgenza. Secondo me Monti si è trovato di fronte al fatto che la lettera della BCE era superata. Non si spiegherebbe diversamente una manovra costruita, perché o uno pensa che Monti messo alla prova, Monti e i suoi ministri messi alla prova non erano in grado di fare una cosa migliore, e questo uno lo può pensare, ma insomma c'è un elemento di propaganda, perché tutti riconoscono che questi tecnici sono il meglio che avevamo a disposizione, oppure uno deve ricavarne che c'era un tale problema di fare cassa e di fare cassa immediatamente, che non si poteva fare altro. Io sono perfettamente consapevole dei limiti della manovra, ma quando vedo il Presidente del Consiglio che va in televisione e dice rischiamo di non pagare gli stipendi degli statali, non posso pensare che lo dica per propaganda, perché non è il capo di un partito, non è il capo di un sindacato, è un signore che è stato messo lì a fare delle cose spiacevoli. Quindi se dice io quando sono arrivato lì rischiavo di non pagare gli stipendi, vuol dire che la situazione era più grave del previsto. Perché? La situazione era più grave del previsto, credo che questo ne siamo consapevoli un po' tutti. Siamo riusciti, stampa, televisione, a raccontare e a far capire al Paese quanto è grave la situazione. Io credo che sulla stampa ci abbiamo provato e forse ci siamo anche riusciti. La politica ci ha provato meno e ci è riuscita meno, tant'è che ha trascinato una situazione per svariati mesi, quando la situazione già stava precipitando, perché noi da giugno, da fine giugno, inizio luglio, quando il governo ha approvato la prima manovra, abbiamo cominciato a scrivere che quella manovra era assolutamente insufficiente e sarebbero state necessarie nuove misure. La politica davanti a quello non ha risposto e i mercati hanno cominciato a mettere sotto pressione l'Italia. L'incubo che noi oggi stiamo vivendo è cominciato all'inizio di luglio, quando abbiamo approvato una manovra del tutto insufficiente che rimandava il pareggio di bilancio al 2014. Lo rimandava prendendo le misure di sacrificio, tutte spostate sul 2013-2014. Quella manovra è stata presa veramente molto negativamente dai mercati e da quel momento è cominciata la pressione sui titoli italiani che ha portato poi a provare svariate manovre prima di arrivare al governo Monti. Noi abbiamo fatto il famoso titolo Fate presto, perché a quel punto veramente la situazione dell'Italia era al limite del tracollo. Con tassi sui BTP all'8%, perché sono arrivati all'8% e con spread ben oltre i 500 punti. È chiaro che il Paese non riusciva ad andare avanti per più di qualche mese, per cui veramente l'Italia era con le spalle del muro e era necessaria una manovra lacrime e sangue, si è usata l'espressione lacrime e sangue, era necessaria una manovra lacrime e sangue probabilmente. Per cui quando ora andiamo a giudicare questa manovra bisogna, secondo me, sempre tenere presente da dove partivamo. Poi Angeletti ha ragione che forse sul fronte dell'equità si poteva fare di più e sul fronte della crescita soprattutto si poteva fare di più. O meglio, io credo che Monti e il suo governo sono consapevoli che queste erano le misure che andavano approvate subito per tamponare una situazione davvero rischiosa, ma che poi sarà necessaria una seconda fase. Io credo che nei colloqui che Monti sta avendo col governatore Visco non si parla d'altro che di questa seconda fase che sarà impostata soprattutto sui problemi per la crescita. Torno subito da lei, Angeletti, perché voglio sentire a Milano De Nicola. Allora, De Nicola, Adam Smith Society, lei è sicuramente un liberista e quindi volevo la sua valutazione sulla manovra. È una manovra che ci libera da alcuni lacci oppure dovremmo avere una fase 2? Questa era una manovra di contenimento e tampone che serviva per rispondere ai mercati, per fare i compiti a casa, come ha detto Monti, e consentire di arrivare a questo vertice europeo con le carte in regola per poter parlare e sedere alla pari degli altri e dobbiamo aspettarci ancora o dobbiamo aspettarci ancora qualcosa? E poi sento di nuovo Angeletti su questo. Io credo che dobbiamo sicuramente aspettarci ancora qualcosa. La manovra era necessaria ed ha avuto degli effetti positivi. Prima che ricominciasse la turbolenza europea, gli effetti positivi c'erano stati sia in termini di abbassamento dello spread che di un generale apprezzamento dell'Europa. Detto ciò, all'Europa naturalmente e ai mercati interessano soprattutto i saldi, mentre a noi come italiani interessa come vengono determinati questi saldi. Ora questa manovra è troppo sbilanciata sul lato delle tasse. Il peso dell'imposizione fiscale in Italia è diventato assolutamente insopportabile. Avremo con questa manovra il 46% del PIL in entrate fiscali. Se ci mettiamo le altre entrate dello Stato, tipo le multe per dirne una o le concessioni demaniali o i dividendi delle imprese pubbliche, le entrate dello Stato supereranno per la prima volta il 50% del PIL. Faccio notare che il PIL ricomprende anche il PIL in nero. Se noi guardiamo solo il PIL in bianco, cioè quello dichiarato, questo è all'incirca l'82%. Se noi mettiamo 50 su 82, è un calcolo semplicissimo, non spaventatevi, vuol dire che le entrate dello Stato sono superiori del 60% al PIL dichiarato. Può un Paese vivere così? Io non credo che un Paese possa vivere così. Quindi anche adesso parlando delle misure di aggiustamento, se si aggiusta qualcosa rispetto all'indicizzazione delle pensioni più basse, però consiglio anche la lettura di un ottimo articolo di Boeri stamattina che dice che non necessariamente le pensioni più basse vogliono dire che sono più svantaggiati, perché bisogna vedere il reddito dei pensionati. Ci sono alcuni pensionati che hanno più trattamenti pensionistici. Quindi bisogna vedere il complesso del loro reddito, non semplicemente l'importo della pensione. Però, salvo questo, se adesso l'indicizzazione verrà portata per pensioni più alte, bisogna ridurre delle spese, non alzare delle tasse. La fermo, faccio una domanda tecnica ai parlamentari, perché non si tiene conto di questo? Nel senso che se io ho una pensione da mille vale una, poi ne ho una seconda da mille e su entrambi, non è la somma? Boccia, Garavaglia, aiutateci a capire. Sull'indicizzazione, indicizzazione per scaglioni. È ovvio che poi il pensionato paga le tasse in funzione del reddito che ha. Quindi non avrebbe indicizzazione se ha 2.000, dico 2.000 per dire, con due pensioni. No, intanto se ha una pensione e poi ne ha una da un'altra cassa, perché era un professionista, sulla prima ha l'indicizzazione come tutti gli altri, sulla seconda accumula la prima e paga le tasse su tutte e due. Sì, ma mi spiego io semplicemente, scusate, scusi dottor Grotta, le spiego io semplicemente, se una persona ha due pensioni da 600 viene indicizzata su tutte e due, se ha una pensione da 1.200 non viene indicizzata. Questo è come funziona la manovra. Ora, questo deve essere rimediato, penso che lo possano fare in commissione, non è difficile, perché è proprio un qualche cosa di tecnico. Detto ciò, quando questa cosa viene rimediata o viene innalzato il tetto per l'indicizzazione delle pensioni, che tutto sommato non mi sembra irragionevole, però questo deve essere fatto a fronte di tagli alle spese, perché anche semplicemente aumentare il prelievo sui capitali scudati va benissimo per la propaganda, ma sono altre tasse, sono altre tasse. Quindi non è questo che va fatto, bisogna tagliare le spese. E tagliare le spese in un paese che spende il 50% del proprio PIL in spese, dire che non c'è margine per tagliare le spese, è una cosa talmente ridicola che lo lascio agli spettatori giudicare. C'è spazio per tagliare le tasse e non per tagliare le spese che rappresentano il 50% del PIL. Ma andiamo, ci vuole un po' di serietà. Ricordo anche che le pensioni, è vero che questa manovra colpisce le pensioni che tutto sommato poi sono consumi, però ricordo anche che le pensioni rappresentano per l'Italia, secondo gli ultimi dati ISTAT facilmente verificabili da chiunque, il 16,8% del nostro prodotto interno lordo. 16,8%. Ricordo che secondo i dati OXE, l'OXE è l'organizzazione dei paesi più sviluppati del mondo, secondo gli ultimi disponibili che sono del 2011 e riguardano periodi di poco precedenti, la media dei paesi OXE delle pensioni è il 7%, 7 a 16,8%. Ora si può dire che i calcoli sono fatti in modo diverso. Ok, è vero, saranno fatti in modo diverso, ma tra 7 e 16,8% per Diana c'è una differenza così eclatante che non è una differenza di calcoli. De Nicola aveva raccolto qualche cenno positivo da Angeletti che poi credo però abbia tutt'altro da dire. Pubblicità è torna, è torna, è torna, pubblicità. Quasi le 8 e 28, allora Angeletti, torniamo a questa vicenda delle pensioni. Diceva, citava dei numeri di Nicola un attimo fa, 16,8% del PIL italiano, paesi OXE 7%, numeri sbagliati? Lo ha anche detto, ci sono diversi metodi di calcolo, se prendiamo gli stessi metodi di calcolo che vengono usati nei paesi europei, quelli dell'euro, quelli con i quali dobbiamo convivere, noi abbiamo una spesa pensionistica che è 10,57% del PIL, non nel 15% e tantomeno nel 16%, usando gli stessi metodi di calcolo che usano in Francia e in Germania e quindi abbiamo una spesa pensionistica assolutamente in linea con quello che avviene. A conferma, da tre anni la Commissione europea fa un monitoraggio sui sistemi previdenziali nei paesi di Eurolandia, anzi nei paesi a 27 e da tre anni che noi arriviamo primi o secondi. Nel senso peggiore peggiore per noi, cioè che il nostro è meno generoso. Allora Angeletti, intanto vi do il primo dato sullo spread che è in salita a 452 punti, dopo la chiusura di ieri a 444, 6,52% vale in questo momento e sono le 8, le 8 e 30. Allora Angeletti, abbiamo parlato di pensioni, è arrivata la riforma delle pensioni la Fornero, il governo probabilmente ha in canna come prossima riforma quella del mercato del lavoro, che come ci ricordava Sorgi prima, in qualche maniera è una riforma che vi allarma, perché? A noi ci allarmerebbe se invece di parlare di liberalizzazioni si parlasse del mercato del lavoro e basta. Allora il segno continuerebbe ad essere esattamente quello che abbiamo visto adesso. Prima veniva ricordato dal nostro interlocutore che bisognerebbe tagliare, purtroppo, io non sono favorevole in via di principio, però capisco che adesso bisogna tagliare, la spesa pubblica. Tagliare la spesa pubblica, che è un programma che credo che si tramandi da un governo all'altro da 30 anni, non si fa per due ragioni. Primo perché nessuno dice dove. Secondo perché tagliare la spesa pubblica colpisce il potere politico e ovviamente nessuno è così autorevisionista da danneggiarsi. Adesso faccio degli esempi. In Italia bisogna fare due cose. Bisogna vendere una parte del patrimonio immobiliare dello Stato, dei comuni, delle province e delle regioni. E ovviamente nessuno è disposto di questi soggetti che gestiscono il proprietario a farlo. Per banali motivi, non per motivi morali, per motivi politici, perché è perdita di consenso oltre che di potere. E bisogna altresì accorpare le migliaia di imprese che forniscono servizi pubblici in Italia. In Italia ne abbiamo un numero sterminato, credo che siamo arrivati a 50 volte quello che avviene a paesi, 50 volte di più, cioè un moltiplicatore, di quello che ci sono in paesi con la stessa popolazione nostra. Tutto questo comporta inefficienze clientele e questo lo capiscono tutti, perché moltiplicarsi di dirigenti e il costo dei quei servizi spropositato rispetto a quello che avviene in Francia, in Germania e anche in Spagna. Questo bisogna fare, non è facile, ma se non vediamo che lì si comincia, ci faremo le barricate su tutto. Mi fa essere malizioso Angeletti, è arrivato il governo tecnico che farà queste cose che i governi politici non facevano. Speriamo, questo sarebbe quello che normalmente ci si dovrebbe aspettare. Boccia, lei sorride, però è la storia di questi mesi, il passo indietro della politica per consentire a un governo tecnico di fare cose. Il passo indietro della politica non c'è stato, perché se ci fosse stato questo governo, che è un governo di emergenza nazionale, nasce grazie alla politica, altrimenti saremmo in campagna elettorale. E nasce grazie alla politica, semplicemente perché nessuna delle coalizioni rimaste sul campo, tra quelle moribonde e quelle in salute, era in grado di governare il paese. In salute, ma che non c'erano ancora? Le coalizioni c'erano, mi dirà non c'erano... I voti? Ancora? Non ci sono i voti parlamentari, nessuna coalizione, le tre coalizioni, mettiamola così, presenti in Parlamento, da sole e anche sommandone due, non avevano i voti e non sarebbe stato giusto sostenere un governo diverso da quello che aveva vinto nelle elezioni del 2008 contro una delle tre coalizioni. Perciò nasce il governo di emergenza nazionale, non perché non ci sia l'assunzione di responsabilità. Volevo tranquillizzare Angeletti sul potere politico. Angeletti sa bene, è un uomo navigato che conosce le istituzioni e la politica, che il potere a cui fa riferimento lui non c'è più da anni. Noi abbiamo tutti quanti l'onere è la responsabilità di ricostruire la credibilità della politica e forse anche... Facciamo un esempio. E forse anche il potere delle... Posso fare un esempio? Posso fare un esempio? Allora, ti faccio l'esempio più favorevole a te. In un comune che possiede 2.000 appartamenti, 5.000 appartamenti, che vengono dati in affitto a affitti ovviamente molto al di sotto del mercato, ovviamente nessun comune ci riesce a venderli. Anche contro l'opinione pubblica che comprerò, perché ovviamente a un certo punto l'opinione pubblica dice perché può andare via la vecchietta lì, no? Ovviamente accanto alla vecchietta c'è manca anche il dirigente comunale che guadagna 100 volte l'affitto che paga, eccetera. Non ci neanche regalarglielo. Il vecchio appartamento ERP ha la vecchia casa popolare. In questo consiste il potere politico. Questa è una cosa faticosa da fare. Sì, però quello che tu dici è vero in un tempo diverso da questo. Oggi ci sono sindaci e lo dico perché una delle proposte che faremo sulle dismissioni, questa manovra sulle dismissioni è debole, è ancora debole. Ma è debole non per colpa del governo, perché ha inserito due articoli sulle dismissioni che si innestano in un sistema che è partito dal, ve lo ricordate il famoso federalismo demaniale, propagandato, le Dolomiti, il Po, una bolla di sapone. Quello che noi banalmente chiediamo e lo faremo in commissione nelle prossime ore e mi auguro che il governo sulle dismissioni faccia un decreto legge ad hoc dopo questa manovra, noi vorremmo dare l'opportunità a tutti i sindaci che vogliono vendere, angioletti e soltanti, che vogliono vendere. Di vendere immediatamente ad una società dello Stato, sede la Cassa di Depositi e Prestiti meglio, e di liberare quei comuni dei debiti pari al valore del patrimonio. Poi sarà una società dello Stato a vendere con i controlli adeguati il patrimonio. Se noi facessimo questo libereremmo i comuni di debiti finanziari, di quote di rimborso degli interessi e consentiremmo a molti sindaci di ristrutturare. Ci sono... ci sono... ci sono... ci sono... anche verso famiglie che ci vivono, abbiamo il dovere di costruire meccanismi per consentire a queste famiglie di comprarselo. Esatto, ti ho fatto l'esempio più favorevole, adesso ti faccio quello meno favorevole per te. Ci sono in Italia... Ma per noi puoi farli tutti, guarda. No, no, ci sono duemila... no, nel senso di te in quanto tu rappresentante, non te personalmente, e neanche la tua parte politica solo. Ci sono in Italia duemila società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Ne basterebbero venti, una per ogni regione. Nessuna di queste venti vince una gara. Sono date tutte a concessione. Ti posso dare? E poi il governo, questo, che ha fatto? L'unica cosa che poteva fare, altri 600 milioni. Angeletti, molto spesso in questa società c'è il potere politico, c'è anche un po' di potere sindacale, questo va detto, credo, no? No, no, ma probabilmente il giorno in cui ci sarà l'accorpamento o la cosa qui, ci saranno i sindacati che... Ma no, 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 domanda, ma è una cooperativa? No. Detto questo, c'è il problema della spesa, io vorrei darlo un dato che non è significativo. Quando parliamo appunto della necessità di fare i tagli di spesa, se noi siamo ridotti alla situazione in cui siamo, è perché i tagli di spesa non sono mai stati fatti, ma non solo non sono stati fatti i tagli di spesa, ma la spesa pubblica in periodo di risanamento, quindi in periodo in cui dovevamo tenere sotto controllo i conti pubblici, è aumentata di 150 miliardi nell'ultimo decennio. In dieci anni, la chiamiamo la politica, i governi che hanno governato in questi dieci anni hanno consentito un aumento di spesa pubblica di 150 miliardi, è passata da 650 miliardi a circa 800 miliardi della spesa pubblica italiana, quindi è il problema, qui non è un problema di dove andare a tagliare, è stato un problema che è stato permesso un aumento spropositato di spesa pubblica anche in un decennio in cui il problema dell'Italia erano i conti pubblici. Sorgi, un attimo a boccia, volevo sapere una cosa da Sorgi, perché Angeletti ha messo i piedi nel piatto, le riforme, sono mancate le riforme, citava lei, 2000 società che gestiscono il trasporto pubblico ne basterebbero 20 e probabilmente i nostri partner europei ne avranno non 2000 ma ne avranno quando va male 50 e noi rimaniamo con le nostre 2000. Mi riferivo alla cosa che dicevo e che boccia criticava, il passo indietro relativo della politica anche per affrontare alcuni passaggi critici che nessuna delle due coalizioni forse da sola era in grado di fare. È così? È anche per questo che c'è il governo Monti in questo momento? Sicuramente è anche per questo, però il passo indietro della politica me lo devo vedere tutto ancora, nel senso che il governo Monti si legge su una maggioranza che come vediamo fa continuamente dei vertici, all'inizio li ha fatti un po' di nascosto, c'è stata l'inonia sul fatto che passavano nel turno. Oggi Casini in un'intervista dice ma certo che dobbiamo fare, facciamo dei vertici e ci mancherebbe, come si fa a far funzionare una maggioranza? Ma naturalmente siccome questi vertici sottolineano il fatto che questo governo nasce dalla rottura delle due maggiori coalizioni, no, perché nel centro-destra la Lega è passata all'opposizione e nel centro-sinistra Di Pietro in occasione di questo dibattito sulla manovra ha fatto capire che non voterà la fiducia, quindi passa pure lui all'opposizione, ovviamente questo è imbarazzante proprio, quindi io il passo indietro lo devo ancora vedere tutto. In più, consideriamo una cosa che mentre per la politica il Parlamento è un luogo dove avviene la compensazione necessaria, lo stiamo vedendo sulle pensioni, lo stiamo vedendo sull'ICI, l'impressione diffusa è che questa manovra uscirà con due simmetrici aggiustamenti sui due provvedimenti che sono guardati con maggiore sospetto dalle due maggiori componenti della coalizione, no, cioè l'ICI che il centro-destra ha detto che piuttosto si faceva ammazzare e le pensioni che il centro-sinistra insomma non le gradiva per niente. Però la questione, cioè la novità che secondo me sta venendo fuori è questo, che mentre per la politica il Parlamento è una stanza, è istituzionalmente la stanza di compensazione delle tensioni che ci sono, la velocità con cui la manovra ha dovuto essere approvata ha segnato per il sindacato un'esclusione da quel metodo che era della concertazione. Allora io cosa vedo nelle reazioni del sindacato? Angeletti non me ne voglia. Vedo che le reazioni del sindacato hanno un elemento di antipolitica che accarezza diciamo il pelo alle tensioni che ci sono nella società, cioè noi non dobbiamo guardare a quello che è alle reazioni di oggi, noi dobbiamo guardare alle reazioni di quando arriverà la prima rata del lici da pagare e si scoprirà che il lici non è stata reintrodotta ma è stata aumentata, cioè in alcuni casi anche andrà vicino a essere raddoppiata e quindi dobbiamo guardare alle reazioni dell'aumento della benzina perché nella vita normale la gente c'è che la mattina esce, si ferma al distributore e mette la benzina. Dieci centesimi in più non sono pochi. Dobbiamo guardare alla bolletta del riscaldamento perché naturalmente l'aumento della benzina, insomma, allora il tipo di reazioni che stiamo avendo adesso sono una parte secondo me minima delle reazioni sociali che verranno fuori e che ovviamente si indirizzeranno in parte, speriamo in massima parte nel sindacato. Rispetto a questo ovviamente il sindacato ha una responsabilità molto forte, cioè secondo me ha una responsabilità molto forte nel senso del governo della situazione piuttosto che nel senso della rappresentanza della situazione. Cioè non vorrei, per dirla in due parole, che il blocco della concertazione e l'esclusione del sindacato da queste decisioni ingenerasse nel sindacato una svolta, un antagonismo lontana da quello che è stato il suo atteggiamento tradizionale degli ultimi anni. Tutto il sindacato, anche quello che ha contestato, perché noi abbiamo avuto una parte del sindacato, la Will, la CIS che negli ultimi anni erano più vicini ai governi, e una parte la CGL che invece è stata antagonista. Ma anche la parte che era antagonista comunque si poneva il problema del reggimento complessivo della situazione. Oggi nelle prime reazioni vedo i segnali di una svolta che dovrebbe rimanersi sbagliato. Vengo a chiederglielo subito a Geretti, voglio sentire però gli antagonisti, quelli che si dichiarano antagonisti dopo non esserlo stati per i tre anni e mezzo di governo. Siete voi che avete riscoperto quello che dice Sorgi. Adesso è facile essere opposizione a questo governo che, ahinoi, deve mettere misure impopolari Garavaglia? O è una scelta politica perché sono sbagliate queste misure? Il vostro ex alleato vota anche se affetto da sindrome di Stoccolma, come dice Calderoli ieri, chiedendo la fiducia. Noi siamo all'antica, noi siamo stati eletti con una coalizione e non siamo stati eletti per governare col PD, non potevamo andare a governare col PD. Non può dirlo di Berlusconi però questo, credo. Infatti ci siamo divisi su una scelta di carattere politico, ma per noi era banale, era ovvio fare così. Siamo convinti che ancora questa è una Repubblica parlamentare dove il potere è in mano al popolo che vota. Questa è la nostra banale idea. Detto questo, siccome qui abbiamo sentito tanti ragionamenti, però vorremmo riportare un po' tutti più con i piedi per terra sui numeri perché sentiamo tanto parlare di modifiche giustamente Sorgi faceva riflettere su questo. L'ICI di 11 miliardi non è l'ICI di prima che era tre e mezzo, è tre volte tanto, quindi è chiaramente una patrimoniale, diamogli il nome corretto, la nuova ICI. Modificare questo importo non è semplice. Faccio un esempio per capirci. Il famigerato intervento sullo scudo fiscale è quotato circa mille milioni. A me se non concesso che si riesca a incassarli perché infatti i tecnici della Camera stanno sollevando il problema, probabilmente questi sono scritti sul ghiaccio perché chi ha scudato o ha cambiato intermediario non lo becchi più, per cui è probabile che anche questi siano incerti. Ora, come facciamo a coprire una riduzione di un importo molto grosso, 11 miliardi, quando ne ho per esempio solo uno dallo scudo e non è detto manco che mi arrivano questi. Faccio un altro esempio, il secondo. Si parla tanto di pensioni, anzianità, roba varia e tutte queste belle cose. Ebbene, su un anno, sul 2013, questo è quotato come risparmio di circa 900 milioni. A fronte di 6.700 milioni derivanti dal mancato aumento derivante dall'inflazione. Cosa vuol dire questo? La ciccia, i soldi, il grosso della cassa viene fatta evitando che aumentino le pensioni, tutte, sostanzialmente tutte, per 6.700. E cosa vuol dire? È difficile trovare delle risorse, 6.700, ricordo ancora solo uno dallo scudo che manco arriva. Questo per dire che la situazione è molto complicata, noi lo sappiamo, non è che viviamo sulla Luna, sappiamo che la situazione è complicata. L'ideale sarebbe agire sulla spesa, correttamente è stato detto, ma siamo assolutamente d'accordo. Noi che qui siamo abbastanza vicini alla Svizzera, dove funziona tutto bene. Ebbene, in Svizzera la spesa pubblica sul PIL è il 30% e funziona tutto bene. Mi scusi Garavaglia, ma sarà facile tagliare? Se era facile tagliare? Mi scusi Garavaglia, ma sarà facile tagliare? Perché non avete tagliato con il governo Berlusconi? Ma innanzitutto, anche qui bisogna dirla tutto fino in fondo, 2010 è l'unico anno da qui al dopoguerra dove la spesa pubblica è ridotta in valore assoluto. Quindi che proprio non si sia fatto niente su quel lato non è vero, perché è l'unico anno dove la spesa pubblica in valore assoluto è diminuita. Punto primo. Punto secondo va fatto, ma è politicamente complicato, però rende, e le faccio un esempio da ex sindaco, molto semplice. Io quando facevo il sindaco ho ridotto il personale di 11 unità, 11 persone in meno, vabbè poco tanto, sta di fatto che con 300 mila euro di risparmio all'anno, in 10 anni fa 3 milioni, con questi soldini noi abbiamo fatto una casa di riposo, una RSA e un asilo nido in gestione privata. Risultato abbiamo creato 60 posti di lavoro che però pagano le tasse, mentre per il pubblico è una partita di giro. Questo cosa vuol dire? Non necessariamente il taglio di spesa pubblica è recessivo. Se tagli la spesa pubblica improduttiva, crei posti di lavoro e si può fare. Non mi vengano a dire che non ci sono altri comuni in Italia che possono tagliare il personale in maniera intelligente. Secondo me ce n'è d'avanzo. De Nicola, è questa la soluzione, quella che dice adesso Garavaglia? Cioè tagliare spesa pubblica improduttiva per trasformarla, con il tempo naturalmente, in qualche cosa che rende anche per lo Stato? Questo sarebbe giusto in una situazione ideale, cioè avendo un livello di spesa pubblica basso si taglia quella improduttiva per investirla in spesa produttiva. Oggi il problema è che bisogna tagliare la spesa improduttiva, punto, nel senso che non c'è spazio per ulteriori uscite da parte dello Stato perché altrimenti la pressione fiscale sarà tale che il nostro povero Paese non solo non reggerà dal punto di vista della recessione, ma una cosa che io vorrei far notare a tutti è che il nostro Paese è il Paese che in percentuale ha il minor tasso di investimenti stranieri. Gli stranieri da noi non ci vengono, punto, non ci vengono per vari motivi, non ci vengono per la tassazione, non ci vengono per il mercato del lavoro, non ci vengono per la lettezza della giustizia civile, non ci vengono per la burocrazia, non ci vengono perenne ragioni, ma certo se noi ognuna di queste ragioni invece che risolverla la peggioriamo non ci verranno mai. È un Paese che non attrae investimenti, soprattutto in un'era di globalizzazione. È un Paese morto e l'Italia è da 15 anni che cresce, è il Paese che cresce meno al mondo. Solo lo Zimbabwe e il povero Haiti che ha avuto il terremoto sono cresciuti di meno di noi, ma questo è una cosa sopportabile ancora per tanto tempo. Quindi io sono d'accordo con Garavaglia, ha trovato gli 11 da ridurre benissimo, la Lega poi ha qualche ragione sul fatto che gli enti locali del Sud in genere hanno due volte i dipendenti degli enti locali del Nord, su questo è una cosa che hanno ragione ed è inutile negarlo, ma il problema è tagliare la spesa per ridurre le tasse. In questo problema il problema del Paese è la riduzione delle tasse, è la cosa principale e la riduzione della spesa serve, qui io ho molto rispetto per Angeletti perché fa il suo mestiere di sindacalista ma quando lo sento parlare esce fuori dai temi sindacali, dice cose che io approvo, non ho rispetto perché l'approvo, perché ho anche rispetto per persone che non approvano, diciamo lo rispetto e l'approvo, nel senso che la spesa è un modo per aumentare il potere politico, perché il potere politico gode con la spesa? Perché può distribuirla, il potere è fatto di spesa, se non c'è niente da spendere, il potere politico diminuisce ovviamente perché ha meno da distribuire. Può fare distenso di boccia alle sue cose De Nicola? Ma sì, ma per forza, cosa vuole che dica? No, sta dicendo cose di buon senso, dopo di che, diciamo, ho la pubblicità e torniamo, fra un istante. Allora, 8,55, aggiornamento sullo spread che è in forte aumento verso quota 470 dopo il vertice notturno, dice l'agenzia TM News dell'Unione Europea per il rafforzamento dei sistemi salvataggio economico. In apertura ai mercati valutari, il differenziale fra i titoli di Stato decennale italiani e quelli tedeschi ha raggiunto quota 467 punti, dai 444 di ieri. Sarà una giornata non facile e adesso aspettiamo ancora l'apertura di borsa, questioni di istanti. Vengo da lei, Angeletti, la domanda, l'osservazione che faceva prima Marcello Sorgi, il sindacato rischia in qualche maniera una forma di antagonismo in questa fase? Il sindacato rischia sempre. Adesso possiamo rischiare di apparire come degli antagonisti. Addirittura la cosa peggiore è quella di essere vissuti come delle persone, come organizzazioni che alimentano l'antipolitica, il qualunquismo, tutti questi sentimenti non proprio positivi che possono, anzi che ci sono nella società italiana. Ma noi stiamo cercando di fare questo sforzo. La Will nel mese di febbraio ha fatto uno studio e una conferenza stampa per dire quanti erano i costi della politica nel nostro paese. Da febbraio a oggi, cosa incredibile, sembra che la lotta ai costi della politica sia una cosa immanente nella nostra società. In fondo, se ne parliamo da pochi mesi, per quale motivo questo successo? Certo, qualunquismo, tutti gli sentimenti antipolitica, la caduta di credibilità della politica, ma perché esiste oggettivamente questo problema? Noi abbiamo questa rappresentazione. La nostra società è come un albero storto, fino a che stava da sola, ha pure prosperato, un po' storto. Adesso che ci hanno dovuto mettere, abbiamo deciso di metterci in riga, cioè dentro un filare, e siccome l'albero è storto, continuiamo a tagliare i rami per tenerlo dentro un filare. A forza di tagliare i rami, l'albero si secca. Allora noi diciamo, scusate, perché non ci concentriamo di più su come raddrizzarlo. Sarà doloroso, perché è ovvio, lungo, meno veloce da tagliare i rami, ma è inevitabile. E tra le valutazioni oggettive che noi facciamo, l'albero è storto, soprattutto per due ragioni, che forse si intrecciano addirittura tra di loro. La straordinaria influenza economica che la politica ha in Italia rispetto agli altri paesi, il tuo costo diretto è indiretto. Un'accusa o una constatazione? Una constatazione, una constatazione. Io addirittura sarei portato in linea teorica a non scandalizzarmi di una cosa di questo genere, però constato che abbiamo 145 mila persone che vengono elette per spendere i soldi pubblici. Probabilmente si otterrebbero gli stessi risultati anche con la metà, come avviene negli altri paesi. Non è che una riduzione della democrazia. E non bisogna vedere questo come dire, ecco, il sentimento antipolitico, no? Tutto ciò che tocca la politica è sbagliato. No, bisogna fare capire che c'è obiettivamente una necessità per il futuro di raddrizzare quest'albero. L'altra questione è la questione dell'evasione fiscale, no? Che abbiamo da 30 anni, da decenni. Adesso c'è una diversa percezione che bisogna incorreggiare positivamente. L'idea che in fondo non pagare le tasse non è più una cosa davanti, no? Quanto sono bravo, quanto sono furbo, lo Stato deve essere necessariamente fregato. Adesso si comincia ad avere un senso di colpa, cioè nessuno si vanta più, no? Di essere un'evasione fiscale. Comunque stiamo andando in quella buona direzione. Quindi bisognerebbe che la cultura di questo paese, la cultura civile di questo paese, fosse indirizzata verso questa cosa qua. Capisco che si causano dei rischi, però senza correre i rischi non si fa niente. Non possiamo stare a braccia corzette. Allora, lei, lei, solo una cosa chiedo, vengo subito a dare i bocci. A proposito dell'esempio, nessuno di voi sa, ma noi abbiamo ridotto del 50% i distacchi. No, no, no. Avete visto una protesta, uno strillo, una dichiarazione? Prego. Io vorrei un'osservazione. Io lo dicevo in questo senso, che il rischio che il sindacato nel suo complesso, ripeto, corre, è quello di trovarsi, di incoraggiare l'antipolitica e trovarsi messo nella fila dei totemi da contestare. Faccio solo un esempio piccolissimo di questi giorni, che rimbalza continuamente sui giornali, nei talk show. C'è la polemica sul lici della Chiesa, sul fatto che la Chiesa non paga lici sugli edifici che hanno poi l'utilizzo commerciale. Accanto a quello è subito nata la polemica sul fatto che il sindacato non paga lici sugli edifici. No, no. No, ma non sto dicendo che è giusta o che è fondata. Adesso lei mi spiegherà che è sbagliata. No, no, no. Non è quello, ma lo prendo come esempio. Anche io ieri sera ho visto una cosa e ce l'ha detto, come i sindacati, anzi era una battuta, era uno di questi, non mi ricordo che, non era una cosa, cioè era una caricatura. I sindacati pagano lici? Ero sicuro che avrebbe risposto? Anzi, abbiamo pure querelato un giornale, che non cito, che aveva detto che noi non pagavamo lici e l'abbiamo querelato perché noi lici la paghiamo da sempre e abbiamo ovviamente ricevute le lici che paghiamo. Posso fare un'osservazione? Ero sicuro che lei mi avrebbe risposto così, però il punto non è questo, è che la risposta che ci si aspetta è, cioè stiamo attenti a fare un discorso su lici in questo modo, cioè paghi la Chiesa, paghi i sindacati, cioè è come quando si fa il discorso sul fatto, si taglino, si dimezzino, si riducano a un terzo gli stipendi dei parlamentari, come c'è molto da tagliare in termini di privilegi, ma il fatto che la politica sia aperta a tutti è il fondamento della vostra Costituzione, no? Altrimenti solo i ricchi fanno politica. Allora la risposta vostra dovrebbe essere sul regime delle esenzioni, non mi sto impancando a fare il sindacalista, ci mancherebbe, ma sul regime delle esenzioni del lici stiamo molto attenti a distinguere tra quegli edifici della Chiesa, del sindacato, di altre organizzazioni che hanno uno scopo sociale e quelli che invece hanno un uso commerciale. Non dire, ma guardate che noi il lici la paghiamo, non è vero, avete detto una fesseria, sarà pure così, però nel fatto che il sindacato venga affiancato nella fila dei non pagatori di lici, c'è il rischio della vostra posizione, questo intendevo dire. Siamo assolutamente conscienti, noi cerchiamo di stare attenti. Allora l'altro giorno, le racconto questo, quando ci siamo visti per stabilire le cose da che volevamo cambiare, a un certo punto qualcuno ha detto, ma siccome la proposta era aumentiamo le esenzioni nella prima casa e aumentiamo in progressione la seconda, terza, quarta e quinta casa, dentro l'età. Allora qualcuno ha detto, ma non è ora che chiediamo pure che la Chiesa paghi e la risposta è stata, no, la Chiesa è un luogo di culto, al massimo possiamo dire che pure gli altri luoghi di culto non pagano lici. Come vedi ci stiamo attento, molto spesso le nostre posizioni … Angeletti, i sacrifici ci saranno ancora, dobbiamo essere pronti? Come? I sacrifici, il mondo del lavoro deve essere pronto. Quelli che gli ho detto prima io, che sono ovviamente i sacrifici, però sono inevitabili. Quelli che ho spiegato prima su dove bisogna andare a tagliare, perché io sono convinto che bisogna tagliare, non potremo più aumentare le tasse, non so se ne siamo consapevoli. Non è che bisogna trovare una tasse giusta, non bisogna trovare una tasse giusta, bisogna ridurre le tasse a milioni di persone prima o poi. In qualche cosa è d'accordo anche con De Nicola. Invece voi, Garavaglia, polemizzate con il sindacato perché sostenete che ci sono dei tabù dai quali non si è mosso. Penso ad esempio al contratto nazionale di lavoro che deve cambiare per voi. Non vale per noi. No, no, per voi no, però loro vanno molto più avanti rispetto a quello che lei concede, gabbie salariali. Oggettivamente, sia il discorso delle gabbie salariali, che è un termine brutto, che però dall'idea è chiaro e comprensibile, sia anche un ragionamento serio sull'articolo 18 andrebbero fatte. Per quanto riguarda la questione dei salari differenziati, chiamiamoli così, e soprattutto del salario territoriale, bisogna considerare che oggi esiste una gabbia salariale. Le faccio un esempio molto semplice. L'operatore ecologico del mio comune prende 1.050 euro. Ci dice qual è questo comune, Garavaglia, quello d'Italia e il suo operatore? Marcavo con Casono, un bel comunello di 6.000 abitanti in provincia di Milano, con 27 dipendenti. Dicevamo, l'operario ecologico prende 1.050 euro, ne paga 700 di affitto, gli rimane pochino in tasca. Lo stesso operaio ecologico a potenza prende 1.050 euro, paga 200 di affitto, ha 500 euro di beneficio netto in più. Questo è un dato di fatto, questo è un dato di fatto che purtroppo non solo crea delle diseguaglianze e quindi dal punto di vista dell'equità comporta dei problemi, ma crea anche una distorsione nel mercato del lavoro, per cui si incentiva, qui parliamo di stipendi, dello stipendio più basso. Se andiamo a livello dirigenziale o comunque a livelli più alti nella pubblica amministrazione, si incentiva nel centro-sud il totem del pubblico come miraggio perché si guadagna bene e con un costo della vita più basso si guadagna molto bene e quindi chi te la fa fare di andare a rischiare nel privato con ulteriore distorsione del mercato. Ricetta questa che noi la diciamo da anni ma ci arriva anche dall'Ocse come meccanismo per incentivare un po' la crescita. Detto questo anche sull'articolo 18 un ragionamento serio andrebbe fatto perché noi oggi abbiamo una generazione che è completamente persa perché i cosiddetti precari non possono fare il mutuo e quindi ritardano spese, ritardano l'economia perché mettono su famiglia a 40 anni, roba da matti e questo non può più funzionare. Quindi l'idea di un contratto unico, tutti a tempo indeterminato però con regole certe di licenziamento secondo noi è un'idea da approfondire e su cui ragionare seriamente. La riforma Eichino vi piace? Direi che ci piace abbastanza, è il tempo di ragionarci. Boccia, voi anche ci ragionate con qualche difficoltà? Sì, prima sorridevo perché 200 euro di affitto a Potenza, poi Garavaglia ci dice dove e chi affitta 200 euro a partenza, a meno che non pensi che a Potenza debbano vivere nella grotta, i ponti e invece in provincia di Milano, ti prego, siccome sei una persona capace, capisco gli slogan e i totem a cui in qualche modo dovete fare riferimento ma non ci sono più, Massimo te lo dico con affetto, non ci sono più, anche questa storia del pubblico. Io conosco tantissimi giovani imprenditori meridionali e settentrionali che hanno idee innovative, che stanno portando avanti imprese, che vanno all'agroindustria, al turismo passando per l'articolo 3, la ricetta dell'Ox è sbagliata. Ma questa storia che al sud vogliono il pubblico, al nord vogliono il privato, è una sciocchezza. Torniamo al privato, a proposito di privato e dell'articolo 18, 8 milioni di italiani, dei quali dovremmo preoccuparci perché non hanno le protezioni di altri, lavorano in piccolissime imprese, in imprese con il limite sotto i 15 dipendenti, non hanno accesso agli ammortizzatori sociali quando quelle imprese vanno in crisi se non attraverso procedure diverse e quindi straordinarie. Quegli 8 milioni, se noi li sommiamo ai 2 milioni di disoccupati e 2 milioni di precari, arriviamo a 12. Per questi 12 milioni l'articolo 18 è oggetto da dibattiti, o televisivi, o da convegni, o da iniziative politiche. Maggior ragione? Quando discutiamo l'articolo... Penso che questi 12 milioni di italiani, lavoratori, alcuni aspiranti perché sono disoccupati, penso incidano sul nostro sistema economico o no? Oppure è l'articolo 18 che ci risolverà tutti i problemi? A chi fa riferimento l'articolo 18? Alle grandi imprese. Dentro queste grandi imprese abbiamo... Sopra i 15... Il pubblico impiego non c'è, perché oggettivamente non sono licenziabili. Non si applica proprio. Vabbè, diciamo, è evidente. Risponde indirettamente a Garavaglia rispetto alle ristrutturazioni nei comuni. Non è solo il suo comune. Negli ultimi 7-8 anni tutti i comuni italiani, per il blocco del turnovo e per il blocco delle assunzioni, hanno fatto cure dimagranti. Non c'è un comune che ha assunto negli ultimi 7-8 anni. Hanno cominciato, va a bordo. Poi, il problema è il punto di partenza, perché dove si esagerava... Si parla di 20 anni fa... Sì, ho capito Massimo, ma il punto di partenza è che se c'era o c'è stata illegalità... Noi non è che possiamo confondere l'illegalità che va perseguita e quegli amministratori vanno mandati a casa e io mi auguro... Ma il mal di pancia nel suo partito rispetto a, come dire, proposte che vanno incontro alle esigenze... No, ma che il mercato del lavoro vada profondamente riformato è la palessiana. Far diventare però un totem, un articolo 18, io penso che non sia corretto e non sia nemmeno onesto nei confronti degli italiani. Far diventare un totem, una cosa che riguarda qualche milione di italiani e fregarsene degli altri 14-15, io penso semplicemente che non sia corretto. Dopodiché la riforma del mercato del lavoro è essenziale e va fatta. Mi permetta solo di dire una cosa, perché altrimenti ci giriamo intorno. Uno dei motivi per i quali il nostro paese è in queste condizioni e che ci porta a dividerci, prima di Nicola, quando parlava della spesa pubblica e produttiva, io sono d'accordo con lui. Dopodiché è opportuno non confondere la spesa pubblica e produttiva, la quale fa riferimento Angeletti molto opportunamente, cosa che io non sottovaluto, che è oggetto anche di molte nostre battaglie dure in Parlamento. Guarda, io so benissimo che come Tangentopoli nel 92 non era un'invenzione delle procure, perché era figlia di un modello di relazione tra l'economia e la politica, perciò scoppiò Tangentopoli, indipendentemente dalla procura di Milano. Così oggi la casta non va sottovalutata, il titolo della casta, come Tangentopoli nel 92, la casta probabilmente tra 20 anni sarà il titolo della ricostruzione di questa fase storica. Non solo non la sottovaluto, ma vanno perseguiti gli sprechi. Dopodiché fare di tutto questo, di tutto un erbo, un fascio, si fa l'errore che richiamava Sorge prima. Si rischia, tutti rischiano, di non essere più credibili. Dentro questa vicenda, quando parliamo di spesa pubblica improduttiva, distinguiamo quella sociale che va salvata da quella legata al funzionamento della politica, che va cancellata. Se non facciamo questo esercizio ogni volta, noi saremo inevitabilmente, tutti tra volte, un deficit di credibilità. Quella che va salvata, e sono le pensioni, vogliamo farlo un discorso serio su chi deve fare mia colpa in questi anni per non aver sostenuto politiche per le nascite? Perché se io vado in Turchia e trovo un paese che ha il 60% di under 30 e corre alla velocità della luce, perché tu devi esaudire i desideri, i servizi, sfamare ragazzi di 30 anni e hai invece un paese che al contrario hai più del 60%, anziano che devi mantenere, qualche problema te lo porrà lo Stato sociale, eppure che facciamo? Diciamo agli anziani, guardate, avete vissuto tanto. Grazie, arrivederci. Allora, sulla questione dei contratti, a parte che c'è una differenza tra i salari del sud e del nord del paese, quelli del sud sono mediamente più bassi del 25% e c'è una spiegazione ovviamente logica dovuta al fatto che, malgrado che non si ripeta, in Italia i contratti nazionali sono uno dello strumento per aumentare i salari, poi per fortuna c'è la contrattazione aziendale e in molte categorie addirittura quella territoriale, anzi nella maggioranza delle categorie c'è la contrattazione territoriale nel commercio e nell'edilizia, quindi dove ci sono milioni di persone e questo ovviamente tiene conto delle realtà. Quello che non vediamo intelligente o efficace è l'idea che ci sia un righello sulla carta geografica nello stabilire quanto si guadagna sopra la riga e sotto la riga. I livelli di salario, è bene dirselo e ripeterlo fino a quando convinceremo il 99% delle persone, non sono la conseguenza di scelte politiche o sindacali, sono la conseguenza dell'economia. Se l'economia va bene i salari aumentano, se l'economia va male non ci sono sindacati nei parlamenti che possono fare aumentare i salari. Bene? Quindi quello che noi stiamo faticosamente cercando di fare, convincendo ancora i nostri colleghi nel sindacato che questa cosa non la vogliono capire, che la contrattazione, la cosiddetta contrattazione di secondo livello, segue questa logica. Noi siamo caduti da 15 anni dentro una trappola bassa produttività o bassi salari come direbbe la Confindustria, oppure bassi salari e bassa produttività come direbbe un sindacalista. Il risultato è esattamente lo stesso. Dobbiamo aumentare la produttività del sistema e quindi questo garantirà l'aumento dei salari. Per quanto riguarda il mercato dell'uovo... E la storia dell'uovo e della gallina però? Sì, basta che... non è un problema. Basta che ci siamo intesi dove bisogna andare. L'altra questione, e bisognerebbe pure sostenerlo, no? Perché questa è una questione fondamentale per la nostra società. Bisognerebbe non lasciarci solo a noi a fare queste battaglie. L'altra questione? L'altra questione è sul mercato del lavoro. Noi abbiamo fatto una scelta pochi mesi fa, molto semplice. Questi problemi, che non è che non esistono, esistono e occorre anche fare delle modifiche. Devono essere lasciati alla discussione tra le parti sociali. Noi pensiamo che non ci sia nessuno meglio della Confindustria che possa negoziare con il sindacato quali sono le regole sul mercato del lavoro. Chiarissimo. De Nicola, sarà lei questa volta d'accordo con Angeletti quando dice cresce la produttività, crescono i salari? Ma io l'ho già detto che sono abbastanza d'accordo con quello che dice Angeletti. Ritengo che sia una persona che si pone i problemi giusti, poi magari le risposte non le dà sempre uguali a me, ma almeno si pone i problemi giusti che rispetto a quello che sento da altri esponenti del mondo sindacale è, come dire, un mondo a parte. Quindi adesso basta complimenti ad Angeletti. Però il problema è questo. Per quello che riguarda l'articolo 18. Allora, già più di 30 anni fa il politico che io amavo di più in gioventù e non solo io in questo studio, cioè Ugo Lamalfa, parlava della cittadella degli occupati che teneva fuori i disoccupati dalla cittadella. Allora, questo è un problema che c'è perché i 12 milioni di precari, che poi sono meno perché gli altri sono lavoratori autonomi, ma i precari sono conseguenza anche del fatto che esiste la cittadella degli occupati, perché le imprese per evitare di mettere dentro la cittadella dei lavoratori che poi ha difficoltà ad avere flessibilità nel momento in cui ne ha bisogno, fa ricorso ovviamente se la legge glielo consente a tutte queste forme di precariato. L'articolo 18 non dovrebbe essere un tabù, nel senso che se è vero che non c'è una cosa simile in tutti i paesi d'Europa, dai più socialdemocratici ai più conservatori, non è possibile che noi siamo i più intelligenti in assoluto, non è possibile che visto i risultati che noi abbiamo, che sono piuttosto sconfortanti, l'articolo 18 sia servito a qualche cosa, perché è vero che l'articolo 18, e qui sono d'accordo, non impedisce le ristrutturazioni aziendali, licenziamenti collettivi e così via, che in Italia ci sono e sono naturalmente molto poi supportati dal contribuente, perché ormai con la cassa integrazione straordinaria ci hanno periodi che vanno fino a 36 mesi di supporto dei lavoratori in mobilità. Quindi lo Stato sociale qua c'è e come. Il problema è che l'articolo 18 fa sì che all'interno delle società, all'interno delle imprese non si riesca a premiare il merito, perché? Perché se un lavoratore, questo prefiguriamoci poi nel pubblico impiego, voglio dire, voi riuscite a mandare via un professore anche il più inefficiente, un professore di scuola anche il più inefficiente che c'è al mondo, ma veramente, diciamo, deve farla proprio ai limiti del penale per essere mandato via, e così nelle imprese il fatto di non poter assumere i bravi, i giovani bravi che sono fuori, e ce ne sono tantissimi, io li vedo in università, è pieno di giovani bravi, è pieno di giovani bravi che sanno le lingue volentieri, perché non ci si riesce in qualche modo a fare un ricambio, perché non si può mandare via nessuno e non è che uno per essere mandato via deve essere per forza un lazzarone delinquente al 100%, no, ma se uno produce il 40% in meno di un altro possibile giovane che può essere assunto, ma l'impresa, se assume il giovane bravo, produrrà più reddito con beneficio per tutta la società, e questo è il problema dell'articolo 18, non tanto dei licenziamenti collettivi piuttosto che delle procedure di mobilità, che quelle ci sono, è che ingessa la struttura delle imprese, le fa produrre di meno, le fa avere una mentalità distorta, non assumo perché poi non posso mandare via, questo è il problema semplice, ma in termini molto laici, non è la battaglia di principio contro il sindacato e così via, non è quello il problema, il problema è semplicemente di dare maggiore competitività, prego, prego. La fermo, la pubblicità, io devo salutare il segretario Angeletti, impegni precedenti. Allora, 9.25 di nuovo in studio, abbiamo salutato Luigi Angeletti, il segretario della Wil che ci ha lasciato, io vi debbo anche le prime notizie dai mercati, le avevo anche qualche istante fa, tutte le borse stanno aprendo in negativo, tra lo 0,6 e l'1% sono le perdite in questo momento dopo il vertice europeo. Allora, riparto da lei, Sorgi, sembra che ci sia stato un mezzo, come dire, un pass qui, non c'è stato l'accordo ma probabilmente era difficile arrivare, oggi i mercati aprono con molta difficoltà e per una volta, visto che riparliamo sempre di Amato 92, della notte della manovra da 90 mila miliardi di lire, allora ci salvammo perché svalutazione, manovra nostra e riuscimmo a uscire da una situazione terribile. Adesso la manovra che per la verità è la quarta o la quinta di quest'anno l'abbiamo fatta, siamo arrivati con i compiti a casa ben fatti a Bruxelles, ma la salvezza non dipende solo da noi, è questo che dobbiamo cominciare a capire. La differenza fondamentale è quella che ai tempi di Amato c'era la lira e ora siamo nel sistema dell'euro e le quantità sono differenti, non solo perché poi dal 92 in poi si è continuato con gli sprechi che ricordava Boccia, cioè non si è mantenuto una linea di rigore, ma è data anche dalla rigidità del sistema dell'euro, non a caso ne abbiamo fatte 4 o 5 manovre, ma se le andiamo a sommare secondo me siamo attorno al doppio dei 90 mila miliardi del 92, perché poi stiamo parlando di milioni di euro, ma infatti la domanda vera che bisogna porsi è questa, cioè guardando specialmente a questo vertice di Bruxelles, per carità queste manovre sono indispensabili e si fanno, è stato indispensabile in Italia ricorrere al governo tecnico, è vero che nessuna delle tre coalizioni da sola o anche a due a due sarebbero stati in grado di fare quello che il governo Monti ha cominciato a fare, però il dubbio sul fatto che l'Europa ci riesca a salvarsi è un dubbio che secondo me esiste, esiste anche per l'osservatore... Lei è ottimista o pessimista? Posto che si possa avere un atteggiamento del genere? Io non mi ritengo un osservatore qualificato di quel genere di problemi, quindi studio, cerco di capire da quelli che ci capiscono più di noi, però se devo giudicare non sono molto ottimista, perché innanzitutto non vedo lo stesso tipo di volontà che vedo nei singoli governi nazionali, non lo vedo nel complesso dei governi, mi aspetto che a febbraio con l'inizio della campagna elettorale per le presidenziali francesi, insomma la Francia entra in un tourbillon, non dico simile a quello italiano ma abbastanza simile, in Germania vedo che c'è una volontà risoluta della Merkel di tenere duro, cioè di non cedere al salvataggio di paesi che dal suo punto di vista non sono affidabili, ma nello stesso tempo sta nascendo in Germania una fortissima contestazione della Merkel, cioè non è che il paese è tutto con lei, anzi tutt'altro, quindi insomma se dovessi giudicare sarebbe un giudizio molto superficiale, ma se dovessi giudicare da quello che vedo non sarei affatto ottimista. Forché lei? Secondo me un elemento di ottimismo ci può essere ed è nell'interesse della Germania nella sopravvivenza dell'euro, perché noi questo dobbiamo dirlo, è vero che l'umore dell'opinione pubblica tedesca non è esattamente favorevole all'euro, però io credo che le classi dirigenti tedesche, le banche, le imprese, probabilmente anche la politica sono consapevoli che l'assetto dell'euro è estremamente vantaggioso in questa fase per la Germania, una frattura della zona euro con la nascita di una moneta forte del nord Europa, un nuovo marco e paesi come l'Italia, la Grecia, l'Italia in particolare può fare concorrenza con una moneta svalutata per la Germania sarebbe un problema molto grande, per cui in prospettiva per la Germania la sopravvivenza dell'euro è importante, per cui ci si può aspettare una responsabilità che in questa fase non abbiamo sempre visto da parte della politica tedesca, io credo che davanti alla possibilità e proprio salti l'euro ci sarà questa responsabilità, va anche compresa la Germania, io non condivido le critiche che vengono spesso fatte alla Merkel, perché la Germania è chiamata ad impiegare le risorse del proprio paese, dei propri elettori per salvare paesi che non hanno fatto lo sforzo sul fronte del rigore che la Germania ha fatto in questi anni, questo ce lo dobbiamo dire, non è che la Germania è improvvisamente cattiva e noi dobbiamo sottostare una Germania cattiva, la Germania ci chiede di fare quello che la Germania ha fatto in questi dieci anni che per noi per dieci anni non abbiamo fatto. De Nicola, prego, un SMS però perché? Questo è condivisibile sicuramente, però la domanda che mi facevo io, cioè la Germania ha fatto le cose che stiamo facendo noi quando c'è stata l'unificazione, tagliò la tredicesima degli statali, insomma hanno pagato dei prezzi altissimi, però la domanda che noi dobbiamo farci è fino a che punto l'Europa è ancora arbitra del suo destino? Cioè voglio dire, se noi guardiamo i undici anni che ci separano dall'inizio del millennio, no, noi abbiamo una grande stagione di guerre combattute con le armi e adesso stiamo assistendo all'inizio di una stagione di guerre combattute con i soldi, questa è la vera... Che è la nuova maniera di combattere le guerre. Che è la nuova maniera di combattere le guerre, quando vediamo il Fondo Monetario Internazionale che si rivolge ai paesi e offre dei prestiti a condizioni che potrebbero perfino risultare un po' più vantaggiose di quelle del documento franco-tedesco che si sta discutendo in questi giorni a Bruxelles, dobbiamo chiederci se non stiamo assistendo a una guerra già in corso, una guerra di soldi, non una guerra di armi. De Nicola, tornando all'Italia e alla Germania, nel catalogo di Monti che cosa ci deve essere secondo lei, nel catalogo delle riforme? Beh, prima di tutto un forte impulso alle privatizzazioni sicuramente. È stato ricordato varie volte che il patrimonio pubblico è di circa 800 miliardi, di cui 200-300 miliardi sono vendibili senza stare nemmeno troppo a pensarci, ma è non solo il patrimonio immobiliare, ma io vorrei ricordare che in mano al pubblico, ente locale o Stato, ci sono aziende che operano già in mercati in concorrenza con altri privati, quindi non c'è la benché minima ragione teorica, se non il potere della politica, perché rimangono in mano allo Stato. Se una società già opera in concorrenza con altri privati in un mercato aperto, ma perché deve averci allo Stato? Il catalogo è lunghissimo in Italia, da Enel a Enia, fin meccanica a fin in cantieri, a poste. Stato magro quindi, stato più magro. Quindi grandi privatizzazioni, liberalizzazioni in modo più preciso e spinto di quello che c'è nel decreto, perché in alcuni casi non è molto preciso, per esempio sugli ordini professionali non si capisce bene, e sulle liberalizzazioni dell'economia il balletto che c'è stato sulle farmacie è francamente indecolo. Rapidamente perché ho due minuti soli per... Perfetto, quindi privatizzazioni, liberalizzazioni, taglio della spesa pubblica e ci ripensi un po' con l'inaspiramento fiscale. Quattro cose semplici. Garavaglia, ma voi all'opposizione sempre e comunque perché dovete farla o perché questo conviene elettoralmente? No, assolutamente. Noi siamo all'opposizione, come è stato detto, in maniera... per scelta politica ma in maniera costruttiva. Ogni roba buona che c'è noi la votiamo più che volentieri. Se decidono per esempio di privatizzare la RAI, giusto per fare un esempio molto chiaro, siamo assolutamente d'accordo, visto che non c'è più il problema Berlusconi che lo impediva prima. Detto questo bisogna agire molto seriamente in quest'ottica qua europea che ci preoccupa. Non siamo pessimisti ma ottimisti informati. Guido Carli diceva sull'euro una cosa molto bella. Con l'euro abbiamo messo il cappio al collo, però teniamoci la mano sul nodo. Il nodo è la politica fiscale. Boccia, è la fiducia l'unica maniera che ha per mettere d'accordo i mal di pancia di tutti i grandi partiti che lo sostengono Mario Monti? No, non necessariamente. Se deciderà di porre la questione di fiducia sarà semplicemente per garantire che non debbano essere modificati alcuni pilastri di questa manovra. Lo farà, se dovesse farlo, solo per garantire che non debbano essere modificati gli accordi che la Commissione Bilancio finanza insieme e tirerà fuori nelle prossime ore. Solo per questo, non per evitare il dibattito. Anzi, in queste ore il dibattito in Commissione Bilancio è molto molto articolare. Grazie. Termina qui questa puntata di Omnibus. Adesso c'è Coffee Break. Il telegiornale alle 13.30. Tutti i risultati del Vertice di Bruxelles. Domani mattina alle 7.00. Torna Omnibus. Arrivederci.